Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piaciuto potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di una scomparsa davvero misteriosa avvenuta nel 2006. A sparire nel nulla è un ragazzo di nome Jesse Ross, ma come al solito, procediamo con ordine. Jesse nacque presso il KU Medical Center il 18 febbraio 1987, intorno alle 4, a Kansas City, nel Missouri. Visse a Belton, Missouri, dove frequentò la scuola materna dai 3 ai 4 anni come parte del programma per la prima infanzia previsto dalla Raytown South High School. Poi fu iscritto alla Regis Grade School fino all'ottavo anno e frequentò anche la chiesa cattolica di St. Regis con la sua famiglia. Lavorò in uno stand in concessione in un campo da baseball a Kansas City e fu apprezzato per la sua abilità nelle vendite e le capacità organizzative. Si recò a Jeff City con suo padre e un gruppo di fedeli della chiesa cattolica di St. Regis per sostenere la legislazione provita. Per il suo viaggio di terza media Jesse andò a Chicago con suo padre e alcuni compagni di studio. Al liceo frequentò l'Archbishop Ohara High School e si diplomò nel 2005. Jesse Ross, dei 19 anni, era iscritto al secondo anno dell'Università del Missouri a Kansas City. Si stava laureando in comunicazione e in scienze politiche ed era attivo in diversi club del campus. Diventò un membro dei Model United Nations, MEN, dell'università come matricola. I Model United Nations, ossia MEN, sono meeting internazionali di studenti che perseguono la simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Jesse riuscì ad arrivare al Model United Nations Conference nel 2005 presso l'Università di Chicago. Questo fu uno dei momenti rilevanti del suo anno di studi. Alla conferenza parteciparono studenti provenienti da tutto il paese e fu un'ottima occasione per incontrare nuove persone. Jesse era entusiasta di prendere parte a IMAN nel suo secondo anno e all'inizio del semestre non vedeva l'ora della conferenza del 2006. Derek Moorhead era il consulente di facoltà dei MAN e l'accompagnatore per la conferenza del 2006. Questo però era un ruolo che gli era nuovo. Fino all'anno precedente Derek era stato partner di uno studio legale. Tanco dello stress e delle lunghe ore di lavoro decise di intraprendere una nuova carriera come professore universitario presso l'Università del Missouri. Questa decisione avrebbe avuto un profondo impatto sulla sua vita. La conferenza doveva iniziare sabato 18 novembre 2006. Jesse quindi svegliò suo padre prima dell'alba in modo che potesse dargli un passaggio all'Università del Missouri per incontrare il resto del gruppo. C'era un totale di 14 persone dirette alla conferenza, Derek e 13 studenti. La scuola non aveva abbastanza fondi per pagare il biglietto aereo a tutti quindi il gruppo intrapreso un viaggio di 10 ore fino a Chicago attraverso il noleggio di un furgone arrivando a destinazione nel tardo pomeriggio di sabato. Sebbene tutti gli eventi relativi alla conferenza si tenessero allo Sheraton Chicago Hotel, i 1200 studenti partecipanti alloggiavano in tre diversi hotel della zona. Il gruppo dell'Università del Missouri soggiornava al Four Point Sheraton a 15 minuti a piedi dallo Sheraton Chicago. Jesse condivideva una stanza con Ralph Parker. I due avevano frequentato la stessa scuola superiore a Belton nel Missouri ed erano diventati buoni amici al college. Erano entrambi membri del Consiglio di Sicurezza dei Mann e trascorrevano la maggior parte del loro tempo a Chicago insieme. La conferenza prevedeva un fitto programma con molti eventi diversi per i partecipanti ma questi avevano a disposizione anche del tempo libero per esplorare la città. Lunedì pomeriggio Jesse e Ralph andarono in un negozio Harley Davidson, poi cenarono all'Hard Rock Cafe. Tornarono allo Sheraton Chicago in tempo per la loro sessione dalle 18 alle 21 e 30. Jesse Ross telefonò a sua madre da Chicago il 20 novembre solo per farle sapere che si stava divertendo molto alla conferenza. Promise di chiamare di nuovo il giorno successivo quando lui e i 13 studenti dell'Università del Missouri, Kansas City e il loro sponsor della facoltà avrebbero caricato i furgoni per il viaggio di rientro. Era quel tipo di figlio, disse Donna Ross. Faceva sempre sapere a sua madre dove fosse e cosa stesse facendo e quando sarebbe tornato a casa. Non poteva nascondere un segreto, non a sua madre. Poiché lunedì si sarebbe tenuto l'ultimo evento serale della conferenza, era stato organizzato un ballo per gli studenti dalle 22 alle 2. Diversi membri del gruppo dell'Università del Missouri dissero ad Eric che non sarebbero rimasti per il ballo, quindi lasciarono lo Sheraton in Chicago per tornare al loro hotel intorno alle 22. Supponendo che tutti i suoi studenti stessero rientrando al Four Point Sheraton, anche Derek scelse di non partecipare al ballo. Lui e uno studente laureato infatti andarono a cena in un ristorante e poi tornarono nelle rispettive stanze. Mentre la maggior parte degli studenti era libera dagli obblighi della conferenza fino alle 11 del giorno successivo, coloro che erano membri del Consiglio di Sicurezza dei Mann, inclusi Jesse e Ralph, dovevano partecipare a una riunione alle 2.30 del mattino. L'incontro era una simulazione di un vero e proprio incontro di emergenza del Consiglio di Sicurezza che ebbe luogo nel 1990 ed era servito a mostrare agli studenti la natura imprevedibile della politica internazionale. Era previsto per le 2.30 del mattino per rendere l'esperienza il più autentica possibile. Prima della riunione notturna Jesse era tornato al Four Point Sheraton intorno alle 22, ossia al suo hotel. Si era accodato a un gruppo di studenti incontrati in albergo pronti a riunirsi in una stanza per bere. L'alcol chiaramente era severamente vietato alla conferenza ma questa era una regola facile da infrangere. Alla conferenza del 2005 uno dei partecipanti si era talmente ubriacato che non era riuscito a capire come rientrare nella sua stanza. In pratica i compagni di classe lo avevano trovato mentre dormiva nel corridoio la mattina seguente. La festa improvvisata in camera d'albergo si era conclusa dopo un paio d'ore circa. Diversi studenti, dopo aver bevuto dell'alcol, avevano deciso di tornare allo Sheraton Chicago per vedere come procedeva il ballo. Jesse venne visto nel filmato di sorveglianza mentre lasciava il Four Point Sheraton a mezzanotte e 43. Era solo con in mano una bottiglia di plastica. Non era chiaro se Jesse si fosse fermato da qualche parte mentre andava allo Sheraton Chicago ma nei filmati di sorveglianza lo si vede mentre si avvicina all'ingresso dell'hotel all'1.09. La passeggiata normalmente richiederebbe circa 15 minuti dunque Jesse potrebbe essersi fermato a parlare con delle persone lungo la strada oppure potrebbe aver camminato più lentamente visto che aveva bevuto. Jesse si fermò al ballo. Le foto scattate da altri studenti lo mostravano mentre sorrideva tenendo in mano una bottiglia di Powerade. Nessuno degli accompagnatori si è accorsa del fatto che la bottiglia era piena di un cocktail a base di vodka. Dopo aver trascorso circa 20 minuti al ballo Jesse prese l'ascensore per arrivare all'ottavo piano dell'hotel. Lì si recò a un'altra festa in una camera d'albergo questa volta con studenti di un altro college. Gli studenti ricordavano che si era presentato intorno all'una e mezza del mattino e aveva continuato a bere con loro fino a quando non era arrivato il momento per lui di scendere al piano di sotto per la riunione del consiglio di sicurezza. Ralph era già alla riunione quando Jesse arrivò intorno alle 2.30. Uno studente che vide Jesse entrare nella stanza disse che sembrava avesse bisogno di aiuto per camminare. Pensava che Jesse fosse molto ubriaco. Ralph invece disse che Jesse sembrava essere presente a se stesso ma non era rimasto alla riunione a lungo. Alle 2.50 del mattino Jesse sussurrò qualcosa a Ralph ma quest'ultimo non capì cosa l'amico gli stesse dicendo. Prima che potesse chiedere chiarimenti Jesse si alzò e lasciò la stanza. Infatti verso le 2.50 circa 12 ore dopo la sua ultima telefonata alla madre Jesse Ross si alzò dalla sedia e uscì dalla stanza per una pausa di 30 minuti. Una telecamera di sorveglianza nella hall dell'hotel catturò l'immagine inconfondibile di Jesse. Aveva i capelli rossi, era vestito con una maglia bianca, jeans e una giacca verde e si dirigeva verso l'ingresso principale. Inizialmente Ralph pensava che Jesse stesse semplicemente andando in bagno ma non tornò più. Ralph tuttavia non era troppo preoccupato e immaginò che Jesse fosse stanco e avesse deciso di tornare al loro hotel e andare a dormire. Uno degli altri studenti vide Jesse subito dopo aver lasciato la riunione e notò che il ragazzo sembrava ubriaco. Aveva gli occhi rossi e biascicava parole poco comprensibili. Lo studente era preoccupato ma Jesse disse che si sarebbe fermato fuori un momento per prendere una boccata d'aria fresca e che sarebbe tornato subito. Così lo studente tornò alla riunione del consiglio di sicurezza, ignaro che quell'incontro casuale nel corridoio sarebbe stato l'ultimo avvistamento confermato di Jesse. La riunione del consiglio di sicurezza durò fino alle 5.30. Ralph tornò da solo al four point Sheraton e salì dritto in camera. Grazie alla luce fiocca del corridoio poteva vedere un rigonfiamento sul letto di Jesse e pensò che il suo compagno di stanza stesse già dormendo. Non volendo svegliarlo Ralph non accese la luce. Esausto si accasciò sul letto e si addormentò immediatamente. Ralph dormì fino alle 10 del giorno successivo. Quando si svegliò Jesse non era nella stanza. Il tumulo che aveva visto sul suo letto era semplicemente un mucchio di vestiti. Comunque non era eccessivamente preoccupato. Probabilmente Jesse aveva deciso di intrufolarsi nella stanza di qualcun altro. Dovevano tornare allo Sheraton Chicago per gli ultimi incontri della conferenza quel pomeriggio. Quindi Ralph era sicuro che Jesse si sarebbe fatto vivo per allora. Iniziò a innervosirsi quando l'ora del check out si avvicinava e non c'era ancora traccia di Jesse. Ma si disse che il suo amico magari aveva perso la cognizione del tempo. Quando non gli riuscì di contattare Jesse sul suo cellulare perché continuava a partire la segreteria telefonica Ralph si iniziò a guardare intorno alla ricerca del suo amico. Si sentì sempre più ansioso mentre scrutava l'atrio. Jesse con i suoi capelli rosso brillante era facile da individuare in mezzo alla folla. Non c'era traccia di lui. Ralph riuscì a trovare Derek e immediatamente gli disse che Jesse sembrava essere scomparso. Uno dopo l'altro tutti gli studenti dell'università del Missouri cominciarono a presentarsi nell'atrio con i bagagli in mano. Derek chiese a ciascuno di loro se per caso avessero visto Jesse ma le risposte furono negative. Tutte le chiamate al suo numero di cellulare rimasero senza risposta quindi Derek decise di controllare la camera d'albergo di Jesse per tentare di trovare qualche indizio su dove potesse essere il ragazzo. Tutti i suoi effetti personali erano ancora sparsi per la stanza d'albergo. Era chiaro che Jesse non aveva neanche iniziato a fare i bagagli per la partenza. Quando Derek trovò una bottiglia di vodka vuota ipotizzò che Jesse avesse bevuto troppo la sera prima e si fosse rintanato in una stanza da qualche parte cercando di dormire. L'intero gruppo iniziò quindi a bussare alle porte dei partecipanti della conferenza sperando che qualcuno potesse fornire informazioni su Jesse. Non riuscirono a trovare nessuno che avesse visto Jesse dopo le tre. Derek quindi chiamò la sicurezza dell'hotel alle 13.30 per riferire che uno degli studenti era scomparso. Dopo aver cercato per un'altra ora senza trovare traccia di Jesse Derek non poteva fare altro che prendere il telefono per fare una chiamata straziante a Don e Donna Ross col fine di dire loro che non riusciva a trovare il figlio. Poi si diressa alla stazione di polizia e compilò un rapporto di scomparsa. Gli investigatori della polizia di Chicago furono inviati allo Sheraton Chicago Hotel alle 16.00. A questo punto la conferenza era finita e la maggior parte dei 1200 studenti che l'avevano seguita erano già partiti per tornare a casa lasciando gli investigatori con pochi testimoni da intervistare. Fu condotta un'altra perquisizione stanza per stanza e gli agenti non trovarono alcuna traccia di Jesse e nessun segnale che fosse accaduto qualcosa di tragico. Sebbene gli investigatori concordavano che Jesse fosse semplicemente andato via da solo la situazione era grave. Sapevano chi aveva bevuto e timevano che potesse essere inciampato ubriaco per finire nel fiume Chicago. Dunque camminarono su e giù lungo il fiume senza trovare nulla ma c'era poco da fare una volta che scendeva il buio. Per la mattina seguente fu organizzata una ricerca ben più accurata. Tutti gli studenti dell'università del Missouri rimasero sconvolti dalla scomparsa di Jesse e molti di loro trascorsero il pomeriggio in lacrime. Derek prese la decisione di rimandarli a casa sapendo che la festa del ringraziamento sarebbe stata celebrata entro due giorni ed erano tutti ansiosi di vedere i propri genitori. Il gruppo viaggiò per dieci ore in silenzio, i ragazzi erano preoccupati per il loro amico. Derek rimase a Chicago per assistere la polizia nelle indagini. Incapace di dormire trascorse le successive dodici ore vagando su e giù per le strade di Chicago alla ricerca di Jesse. Verificò ogni possibile percorso tra lo Sheraton Chicago e il Fourpoint Sheraton controllando vicoli e cassonetti cercando qualsiasi indizio che lo potesse condurre all'adolescente scomparso. Don e Donna Ross erano a casa a Belton, Missouri, quando iniziò la ricerca del figlio. L'istinto suggeriva loro di prendere il primo volo per Chicago, ma la festa del ringraziamento rese impossibile trovare un volo disponibile. I detective di Chicago cercarono di confortarli al telefono dicendo loro che non c'era bisogno che arrivassero immediatamente. Tutti speravano ancora che Jesse sarebbe stato rapidamente individuato. Così sarebbe tornato a casa con la sua famiglia in tempo per il ringraziamento. Mercoledì mattina polizia, guardia costiera e sommozzatori dei vigili del fuoco iniziarono a effettuare delle ricerche nel fiume Chicago, vicino allo Sheraton Chicago. Era una ricerca relativamente di routine per loro, spesso venivano inviati a recuperare i corpi di vittime suicide. Sapevano per esperienza che chiunque entrasse in acqua in quella zona si trovava entro dieci piedi dal loro punto di ingresso, quindi si concentrarono sul tratto di fiume direttamente dietro lo Sheraton Chicago. Trovarono un sacco di spazzatura e un certo numero di coni stradali, ma niente che indicasse che Jesse fosse in acqua. Anche una perquisizione nelle strade e nei vicoli intorno all'hotel non fornì alcun indizio. Mentre le squadre di ricerca stavano perlustrando la città nel tentativo di rintracciare qualsiasi segno di Jesse, gli investigatori contattarono gli studenti che avevano partecipato alla conferenza. Avevano bisogno di costruire una cronologia completa dei ritrovamenti di Jesse nelle ore prima della sua scomparsa, ma localizzare i testimoni era un compito difficile. Tutti i collegi che avevano mandato degli studenti alla conferenza erano ora chiusi per la pausa del ringraziamento e rintracciarli si rivelò quasi impossibile a causa dell'evaccio ma gli studenti che riuscirono a contattare offrirono poco in termini di aiuto. La maggior parte di loro era minorenne e visto che avevano bevuto dell'alcol i ragazzi erano riluttanti a parlare con la polizia. La polizia allora utilizzò i filmati di sorveglianza per cercare di individuare quando Jesse aveva lasciato lo Sheraton Chicago, ma non c'erano video di lui mentre usciva dall'hotel. Gli inquirenti credevano che Jesse, una volta lasciata la riunione del Consiglio di Sicurezza, fosse uscito dalla porta sul retro dell'hotel, quindi sarebbe stata a una distanza di circa 25 piedi dal fiume Chicago. Convinti che in quel punto fosse in qualche modo caduto nel fiume, una squadra subacquea fu mandata a fare un'altra ricerca. Ancora una volta non emerse nulla, ma gli inquirenti non si arresero, anzi estesero la ricerca spostandosi ogni giorno più a monte. Dopo due settimane di ricerche, i subacquei si dissero certi che Jesse non si trovava nel fiume. I detective a quel punto iniziarono a indagare sulla possibilità che Jesse fosse scomparso volontariamente. Donna e Donna Rossi, i suoi genitori al contrario, erano fermamente convinti che Jesse non avesse scelto di scomparire. Sebbene l'Università del Missouri non fosse stata la sua prima scelta per il college, in quanto inizialmente voleva andare all'Università del Kentucky, ma i suoi genitori lo convinsero che era troppo lontana e troppo costosa. Si era gettato nella vita del campus e presto lo aveva amato. Oltre a essere un membro dei MAN, Jesse era stato coordinatore spirituale per il programma e il consiglio di attività dell'Università e stagista presso una stazione radio locale. Jesse sperava in una carriera nel settore radiofonico ed era elettrizzato quando aveva ottenuto lo stage nel popolare programma mattutino di 95.7. Sebbene fosse solo un impiego part-time, non passò molto tempo prima che Jesse, chiamato OP in onda, iniziasse a conquistare fan in tutta Kansas City. Poco prima che partisse per la convention dei MAN, a Jesse fu offerto un posto retribuito presso la stazione radiofonica. Era estasiato dalla notizia, considerandola come il primo passo in quella che sarebbe stata una promettente carriera. Con il suo grande senso dell'umorismo e la sua vivace personalità, Jesse faceva amicizia facilmente ovunque andasse. Da bambino era un po' iperattivo e tendeva ad annoiarsi se doveva rimanere troppo a lungo in un posto. Amava la vita e voleva assicurarsi di godersi tutto ciò che il mondo aveva da offrirgli. Era vicino ai suoi genitori e a suo fratello. Non c'era nulla in lui che lo rendesse un probabile candidato a scomparire volontariamente, almeno da quello che sappiamo. Don e Donna Ross dissero agli investigatori che Jesse era un bravo ragazzo, ma a volte poteva agire con poco giudizio, cosa che accade spesso negli adolescenti. Nulla di nuovo. Infatti, quando aveva partecipato alla conferenza dei MAN l'anno precedente, era tornato a casa senza la videocamera che gli aveva prestato suo padre. Aveva detto ai genitori che, mentre passeggiava per la città di Chicago a luna di notte, un uomo con un coltello lo aveva aggredito e gli aveva preso la macchina fotografica. I genitori erano inorriditi, ma Jesse considerò quella vicenda come un incidente di poco conto. Un po' come tutti gli adolescenti, si sentiva invincibile e il fatto di essere sopravvissuto alla rapina e di essere fisicamente illeso rafforzò questa convinzione. Il Midwest fu colpito da una forte tempesta di neve la settimana dopo la scomparsa di Jesse, rendendo ancora una volta impossibile il viaggio verso Chicago. I genitori di Jesse si sentivano come animali in gabbia, chiedevano costantemente aggiornamenti sulla ricerca del figlio. Quando la tempesta si placò, Don Ross e il fratello maggiore di Jesse, Andy, partirono. Vennero accolti all'aeroporto con la triste notizia che il corpo di un individuo, maschio, bianco, era stato appena estratto dal fiume Chicago. Sebbene la polizia non avesse ancora rilasciato alcuna notizia sull'identità del corpo, la maggior parte delle persone pensava che fosse Jesse. Dopo un teso pomeriggio di attesa, la famiglia Ross ricevette notizie dagli investigatori. Il corpo non apparteneva a Jesse, era quello di una vittima suicida. Convinti che Jesse fosse ancora vivo, Don e Andy percorsero le strade di Chicago armate di postere e volantini contenenti informazioni sul ragazzo. Camminarono per ore al freddo pungente, consegnando a ogni passante un volantino e supplicandoli di stare attenti in caso vedessero Jesse. Tornarono nella loro stanza ad albergo sentendosi privi di energia. Non avevano ancora idea di dove fosse Jesse e la gravità della situazione stava cominciando a pesare su di loro. Durante le prime settimane di indagini, la polizia era sicura che Jesse sarebbe stato trovato nel fiume. Lo scorso dicembre un uomo che soggiornava lo Sheraton Chicago era scomparso e il suo corpo in effetti venne estratto dal fiume dopo due settimane. Supponendo che Jesse fosse entrato nel fiume nello stesso punto di quell'uomo, i subacquei perlustrarono l'area tra l'hotel e la zona in cui il corpo dell'uomo si era fermato. Non trovarono nulla di nuovo. Gli investigatori considerarono la possibilità che il corpo di Jesse fosse in qualche modo arrivato al lago Michigan. La chiusa del porto di Chicago separava il fiume dal lago Michigan. Se il livello del fiume diventava troppo alto, i cancelli della chiusa potevano essere aperti per rilasciare l'acqua nel lago, in modo che il fiume non straripasse. Gli investigatori quindi interrogarono l'ingegnere addetto alla manutenzione della serratura per verificare se i cancelli fossero stati aperti durante il periodo in cui Jesse poteva essere in acqua. L'ingegnere appurò che non era stato necessario alcun controllo sulle inondazioni, quindi i cancelli erano nella loro condizione abituale. Controllò anche i registri del traffico per vedere se qualche chiatta, ossia una barca di grandi dimensioni, avesse potuto trascinare inavvertitamente un corpo nel fiume, ma nessuno si trovava nella zona. L'ingegnere alla fine concluse che era essenzialmente impossibile che il corpo di Jesse fosse nel lago Michigan. Gli investigatori si erano concentrati sul fiume perché presumevano che Jesse avesse lasciato l'hotel attraverso le porte posteriori, a pochi passi dalla riva. Eppure se lo avesse fatto lo studente avrebbe dovuto essere ripreso nel video di sorveglianza sulla scala mobile che conduceva la porta sul retro. Gli investigatori guardarono quel filmato numerose volte, ma non c'era traccia di Jesse. Quando intervistarono Ralph Parker, il ragazzo disse loro che Jesse non aveva mai usato la porta sul retro. Al contrario aveva utilizzato una scala adiacente alla sala conferenze che portava direttamente all'area del parcheggio custodito ed era l'uscita più vicina al Four Point Sheraton. Il percorso che Jesse avrebbe preso da lì fino al suo hotel non lo avrebbe portato oltre il fiume. Gli investigatori esaminarono anche i filmati di sorveglianza nell'area del parcheggio per vedere se potessero confermare ciò che Ralph aveva suggerito loro. E scoprirono che se Jesse fosse uscito da queste porte e avesse immediatamente camminato verso il suo hotel non sarebbe apparso sulla telecamera perché questa era orientata nella direzione opposta. Ciò spiegherebbe perché nessun filmato di sorveglianza lo aveva ripreso mentre lasciava l'hotel. Con questa nuova pista risulta meno probabile l'ipotesi dell'annegamento nel fiume. Tutte le strade che si snodano tra i due hotel erano state ampiamente perquisite subito dopo la scomparsa di Jesse ma non venne trovato nulla che indicasse una rissa o qualcosa di simile. Mentre valutavano l'idea di intervistare le persone intervenute alla conferenza gli investigatori appresero che era possibile che Jesse non si fosse diretto immediatamente al suo hotel. Secondo numerosi testimoni Jesse voleva fare un salto a un rally che si teneva a Chicago. Era interessato a diventare un DJ ed era in cerca di qualche consiglio da un DJ esperto. Durante le dieci ore di viaggio verso Chicago il gruppo aveva ascoltato alcuni cd mixati da Jesse. Il ragazzo sperava di entrare in contatto con un dj a Chicago e dargli i cd per mostrare il suo talento. Aveva anche un volantino giallo che pubblicizzava un rave che avrebbe dovuto svolgersi in città. Il volantino e cd furono trovati nella stanza di Jesse dopo la sua scomparsa. Alcuni dei suoi amici si chiesero se avesse lasciato l'hotel lunedì sera per poi dirigersi al rave. I detective cercarono di sondare questa pista ma non furono in grado di confermare se si fossero tenuti dei rave la notte in cui Jesse era scomparso. Sebbene i rave tradizionali fossero ben promossi, quelli sotterranei o fuori leggi a volte si tenevano in edifici abbandonati o altri spazi ad accesso vietato. Per impedire alle autorità di scoprirli non erano ampiamente promosse al di fuori della comunità rave. Jesse dopo aver saputo di uno di questi rave grazie ai suoi contatti radiofonici magari aveva deciso di parteciparvi lunedì sera ma avrebbe potuto incontrare un malintenzionato lungo la strada o durante l'evento stesso. Una varietà di sostanze diverse tra l'altro era facilmente disponibile nei rave sotterranei. Non c'era nulla che suggeriva che Jesse avesse mai provato delle sostanze prima ma di certo quella sera era molto ubriaco. Con il senso del giudizio alterato dall'alcol potrebbe aver accettato qualcosa da uno sconosciuto senza sapere cosa fosse e subirne le conseguenze. Sfortunatamente quando qualcuno va in overdose a una festa, specialmente se tenuta in un luogo illegale, gli altri partecipanti raramente pensano di chiedere aiuto a un medico. Se il corpo di Jesse fosse stato abbandonato in un edificio disabitato e ce ne sono a migliaia a Chicago risulterebbe molto difficile da trovare. Senza sapere in quale direzione era andato Jesse quando aveva lasciato l'hotel era quasi impossibile seguirne i movimenti. Non appariva in nessun filmato di sorveglianza, delle telecamere di sicurezza esterne nell'area dell'hotel. L'ultima volta che aveva usato il cellulare erano le 3.30, meno di un'ora dopo aver lasciato la conferenza. Non passò molto tempo prima che il caso di Jesse diventasse un caso irrisolto. I suoi genitori assunsero un investigatore privato per rinforzare la ricerca. Nonostante gli sforzi, gli investigatori non hanno scoperto niente di nuovo. Donne e Donna Ross non hanno mai smesso di cercare il figlio. Tornano ancora periodicamente a Chicago per distribuire volantini e appendere poster nell'area in cui Jesse è stato visto per l'ultima volta. Mentre Jesse lavorava alla stazione radio, gli venne affidato un segmento popolare chiamato Where's Hoppy, per il quale avrebbe dovuto recarsi in vari luoghi di tutta Kansas City descrivendoli mentre era in onda. Gli ascoltatori dunque avrebbero dovuto capire da dove stava chiamando. Derek non ha mai completamente superato il fatto che uno studente sotto la sua supervisione è scomparso. Alla fine di quell'anno accademico decise di non continuare a insegnare. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso e se già lo conoscete. Secondo me ci sono davvero tante ipotesi per questo caso e Jesse potrebbe realmente essere andato ovunque. Quindi ci vecchiamo come al solito sotto nei commenti. Detto questo noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.